Buongiorno, sono Gianni Bianchi, da poco eletto Presidente dell'Associazione di Essere in Guardia. A nome di tutta l'Associazione faccio agli insegnanti e agli associati tutti gli auguri di Buon Natale. Natale è la notizia di un uomo che si dice Dio e che si propone a chiunque, a chiunque abbia il coraggio e il desiderio di ascoltare questo messaggio e che può riempire di speranza anche la nostra vita, così provata da condizioni che nessuno di noi ha scelto. Buon Natale a tutti e a presto.